E siccome io credo che voi siate migliori di quello che dicono, so che al momento giusto saprete essere uomini. Per ora, questa grave situazione la sta affrontando un uomo da solo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Fase numero due. Raggiungere zona operativa.